Buongiorno, buongiorno. Mi dica tutto tutto. Ok lei è qui per fare un test sui suoni. Ok ok ok. Ho già capito. Allora le spiego un po' come funziona. Come vedi io ho qua davanti a me un microfono E ho un paio di cuffie. Ne ho qua un altro paio che dovrà mettere lei. Perfetto. Che collegherò anche quelle a questo microfono in modo che lei possa sentire meglio questi dieci suoni che farò. E poi alla fine le chiederò di tenerli a mente e di fare una classifica da quello che le è piaciuto e la ha rilassato di più a quello che invece magari l'ha rilassata di meno o non le è piaciuto tanto. Quindi se lei è pronta, indossi pure le cuffie che gli ho dato. E anche se lei è pronta, indossi pure le cuffie che gli ho dato. E io inizio in modo semplice. Da due salviette. Farò ogni trigger per un minuto circa. Adesso. Qui. Grazie a tutti Ok, lo metto via, mi dica cosa ne pensa, ci sta, ci sta, mi raccomando lo tenga in mente e prove magari già a posizionarlo un po' alla cieca diciamo in questa classifica anche visto che non conosce gli altri trigger, adesso ne prendo un altro ho preso delle carte ho preso delle carte ho preso delle carte anche qui si ricordi in quale posizione lo vuoi mettere adesso altro trigger allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo me sì, ma deve tenerla per il momento segreta, quella classifica che gli ho detto. Ci pensiamo poi alla fine. Ok, adesso ho qua dei pastoncini di legno. Ok. 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 È vero che con questo microfono lei riesce a sentire i suoni in maniera super chiara. Ok. 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 questo tipo di suoni si chiama lead sounds si chiama lead sounds e anche questo lo metto via lei sta facendo più o meno una classifica ok per adesso abbiamo fatto come trigger le salviette, le carte, le ampolle i bastoncini di legno e il lid sound con la crema perfetto adesso qua un classico ok ok il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Questo è un trick che a me piace un sacco. Adesso trigger numero 8, se non sbaglio perché è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Un portocchiali. Grazie. 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 Allora ci mancano gli ultimi due trigger. Io direi di farli subito. Uno è questo sottopentola. Allora ci mancano. Allora ci mancano. Allora ci mancano. Allora. 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 Quindi ha la sua classifica, ma facciamo così, io non le voglio mettere fretta, quindi se vuole appuntarsela, se vuole pensarci un attimino di più, può lasciarmi un commento proprio qua sotto, facendomi sapere qual è la sua classifica, io li leggerò tutti, quindi adesso io ti dico, ora tocca a te, iscriviti al canale se sei nuovo, per entrare a far parte della community, lascia un like, un commento, importantissimi, e il video di oggi finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora con me, io ti lascio il mio video precedente, una mia playlist e il tasto per andare sul mio canale a vedere tutti i video e tutti i shorts, quindi mi raccomando visitalo, io ti mando un grande bacio e buonanotte, 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 buonanotte Grazie. Grazie.